Si è tenuto questa mattina nella sede della regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara un nuovo incontro alla presenza del presidente Luciano D'Alfonso, del comandante della regione Carabinieri Abruzzo Michele Sirimarco e i sindaci dei comuni di Giulianova, Loreta Putino e Manopello per la realizzazione delle nuove caserme dei Carabinieri. Noi come regione nonostante che non siamo né l'ONU né la Catalogna abbiamo ritenuto di sostenere per ragioni di solidarietà istituzionale queste tre città che sono anche importanti dal punto di vista della collocazione turistica dell'Abruzzo, Loreto a Prutino, Giulianova e Manopello per la realizzazione di questi presidi di sicurezza e di legalità. Tre caserme dei Carabinieri che abbiamo finanziato con un milione e mezzo l'una, 900 mila euro l'altra e la terza con 700 mila euro. Oggi abbiamo controllato il rispetto dei passaggi della roadmap, al 28 di febbraio avremo per tutti e tre il bando di gara, addirittura quella di Giulianova è già in anticipo poiché ha mandato il bando di gara in pubblicazione presso la centrale unica di committenza di Teramo. Ci siamo divisi i compiti sulla sollecitazione per far uscire il bando di gara dal punto di vista della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dopodiché 60 giorni avremo l'impresa esecutrice dei lavori e un'impresa che impiegherà sui 400 giorni per fare le opere. È la prima volta che la Regione Abruzzo mette in campo una copertura finanziaria per realizzare caserme dei Carabinieri. Accanto a questo venerdì noi avremo una iniziativa proprio qui presso la Regione col Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri poiché assumiamo impegno con l'Arma Generale dei Carabinieri, col Comando Generale, per realizzare il rinnovamento delle infrastrutture tecnologiche per quanto riguarda l'autosufficienza energetica. Grazie. Grazie a tutti.